Luigi Morselli, allora possiamo definirla quella di domenica 29 novembre, una vera e propria giornata dedicata a Gela e dedicata allo sport, una giornata di festa? Sicuramente, la prossima domenica il 29 novembre Gela sarà la capitale dell'atletica leggera in Sicilia, in quanto chiuderà l'annata agonistica delle maratonine, infatti noi stiamo organizzando la seconda maratonina del golfo, valida come ottava grova di Granby regionale di maratonine, quindi ripeto, quest'anno Gela avrà l'onore di chiudere l'annata agonistica. La manifestazione che avrà inizio alle 10 di mattina con la partenza dalla villetta di Macchitella, con un percorso che sarà simile a quello dell'anno scorso, che si snoterà per un po' tutto Viale Corte Maggiore, fino all'ingrocio di Via Fontana Rossa, quindi lasceremo libero quel tratto che va da Viale Enrico Mattei fino all'ingresso di Via Fontana Rossa, per far defluire il traffico meglio. Dal lato opposto, l'altro giro di Boa sarà più o meno alla Borsellino. Ed è prevista la partecipazione di 700-800 atleti? Dati tecnici, agonistici, come organizzatori prendiamo almeno 700 atleti provenienti da tutta la Sicilia, quindi avremo i più forti atleti regionali, ma non solo, ad oggi abbiamo un bel 10% di iscrizioni da tutte le restanti regioni italiane, abbiamo gente di Milano, di Ravenna, di Como, di Belluno, quindi per noi, ma non solo come noi Atletica Gela, ma per la città di Gela sarà un bel biglietto di visita, perché l'atletica rispetto agli sport più importanti, per esempio il calcio che arriva, non so, il Milano arriva solo a una città, qui arriva gente da tutte le parti d'Italia, quindi è una bella vetrina per la nostra città e cerchiamo di accoglierli al meglio. Ed è prevista anche la partecipazione del campione del mondo Francesco Ingargiola. Come atleti più importanti avremo sicuramente un nome su tutti, Francesco Ingargiola, di un nostro amico di Mazzara del Valo, che è stato campione del mondo militare di maratona, è stato quindi dagli europei di Gothenburg e tutt'oggi detiene la sesta migliore prestazione italiana di maratona di sempre, con 2,08 euro. Se pensiamo che a New York hanno vinto con 2,11 euro, pensiamo un po'. Per quanto riguarda poi i dati tecnici per chi potrà vincere la gara, ci sarà di nuovo Davide Ragusa, che ha vinto la prima edizione. Anche lui è stato campione italiano di maratonine. A livello femminile la nostra amica pure di Mazzarino, Giussichiolo. Per quanto riguarda la nostra associazione, avremo alla partenza più o meno 30 atleti. A livello femminile chi potrà lottare per il podio saranno Ilva Cigarelli e Laura Granvillano, che anche lei lotterà non solo per il podio, ma alle prime 8-10 posizioni in assoluto. A livello maschile li otterranno per il podio Damiano Dandurella, Filippo Schmecca e Angelo Mendola.